Il vertice europeo inizialmente previsto per giovedì e venerdì è stato rinviato di una settimana. L'annuncio è arrivato dopo la conferma di un caso di coronavirus nell'entourage del presidente del Consiglio europeo Charles Michel, come ha twittato il suo portavoce. In ottemperanza delle regole belge, Michel sarà in quarantena da martedì. I leader europei si incontreranno il 1 e 2 ottobre. Rimandate dunque le decisioni sulle sanzioni verso la Bielorussia e verso la Turchia per le trivellazioni illegali nel Mediterraneo orientale.